Salve, io sono Diego. Oggi concludiamo il discorso sulle tre di minori, eseguendole in verticale. Naturalmente anche questo esercizio deve essere eseguito in tutte le tonalità. Buon divertimento e noi ci vediamo alla prossima. Se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale e volendo lasciate un bel like. Ciao da Diego! Grazie a tutti! Grazie a tutti!